Vogliamo cambiare, studiamo il mondo per cambiare, perché gli anni che abbiamo le spalle, questi nove anni non sono stati anni infelici. Non vogliamo che i nostri ragazzi se ne vagano quando studiano e non vogliamo che sia tu sotto pagami quando rimangono. Vogliamo una sanità che non sia in mani, ma in privato, perché questo possa garantire le cure per te. Governerò seguendo tre principi. Non c'è prosperità se non è condivisa. La povertà non è una colpa, ma è un fallimento di tutta la società. Non c'è libertà se anche una sola persona, una ligure o un ligure subiscono delle discriminazioni. Non c'è democrazia se non c'è partecipazione e se c'è partecipazione non ci sono mafia e corruzione. Vogliamo cambiare, perché vogliamo rompere con una stagione di malaffare, nella quale poche persone decidevano sulla testa di tutti. Pochi uomini, non c'erano mai donne a decidere, privilegiati e di vogliamo una liguria per te.